il nido delle papere al lago di Varese le canne, sta facendo le canne per fare il nido faccio vedere che sono lago di Varese dove c'è il parcheggio mi sembra che sono gallinele d'acqua se no non sono papere, sono gallinele d'acqua non è tutto, la valga è l'esistema Uhum. e viene a scuriozare stanno preparando la covata probabilmente in primavera si schiudono le uova ci sono i bolcini che bello e 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 le due gallinelle stanno litigando e marlene c'è un arone che si è immerso e non torna più su e loro stanno molto sotto è una caccia di pesci non credo che mangino il pane loro chissà dove è finito non lo vedo più vabbè laggiù c'è un cormorano prima volta che lo vedo quello che sta spalancando le ali è un cormorano è davvero grande rispetto agli uccelli ma lì vai pure da mangiare dai si si mi sa che dobbiamo andare di là del pontile c'è la signora che sta riprendendo questo senti che versi che fanno questi questi non li ho mai sentiti e cioè lì sono questi qua e no non qui Marley non qui ecco quando gli dice qualcosa sta qua fa sempre quello che vuole oggi è una giornata un po' nuvolosa ma al lago di Varese sta molto bene e il corbolano lì si sta prendendo il vento bello arieggiato eh proprio in posa la signora lo sta riprendendo non bisogna assolutamente disturbare passiamo dietro la signora guarda che grosso che madonna è una rarità eccolo qui è che spalanca gli ali guarda che meraviglia la natura ha sempre la ragione sull'uomo per quanto l'uomo sia tecnologico la natura è sempre più bella vero Marley madonna che grosso ma non è un coso ma non è nel coso questo qua non è un cormorano è un... è... l'airone o forse è un cormorano quello che c'era prima che si tuffava adesso faccio uno zoom forse è un cormorano forse è un cormorano adesso è un cormorano questo qua si vedo come si scolisce è impazzito sto fare guarda che bestione miseria come mai che diventa così piccolo questo affare mancano i cini qua mancano i cini qua no 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 Si vede che è abituato alle persone, si deve essere il cormorano questo, prima volta che ne vedo uno, guarda come apre le ali. Questa è la galliniera d'acqua, bella ripresa. Si vede che sono abituate le persone, non hanno neanche paura. Hai fiato il pane? Non c'è un po' uno. Ma questo che ci viene dietro ballene? No, 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 no. Eh, meno male. Ecco, via. Prese è andata. Dai, butta in acqua ballene. Sto chiamando perchè dai da mangiare. Mi sa che queste qua hanno poca fame. Guarda pezzi di pane che ci sono qui. No, ma quel pane pucciano dopo si diventa morbido. Sto autofocus non è che funziona la granché. Viene più scuro del normale. E' sterba qui. Guarda, adesso si è regolato. Si alza e viene più scuro. Mannaggia la miseria. Adesso mi avvicino all'amico. Mi faccio scappare. Mi avvicino all'amico a fargli una ripresa. Prima del signore. Guarda che zampe che c'è. Guarda che zampe, madonna. Ho preso il pane. Brava Marli. Ad avvicinarmi. Madonna come galleggia qua. E' andato giù in fondo. Guarda che tu non sai nuotare Marlena. Ecco, è andato. Effetto azione. E' sparito, come si prende male. E' andato giù in fondo. Se sapessi usare la telecamera, la fotocamera qui. Oh. Vabbè. È un bel tigano. Ah, lì tigano. Gli animali sono una cosa più bella che c'è Gli animali sono una cosa più bella Gli animali sono una cosa più bella Gli animali sono una cosa bella